Musica Le social melodies sono un progetto di due miei carissimi amici che hanno pensato giustamente in collaborazione con lo Spazio Volvo di Milano di raccontare un po' a tutti i tanti aspetti diversi della musica. Aspetti variegati, molteplici e alcuni anche naturalmente piuttosto complicati per cui con un linguaggio semplice si cerca di far entrare le persone più possibili nel mondo della musica. Da questo, quindi, da un'idea di quanto Mozart assolutamente non ne fregasse nulla di qualunque accademismo. Mozart di per sé va naturalmente dai giovani. Per i giovani è sufficiente stare ad ascoltare. La musica richiede una certa attenzione che però tutto quanto di positivo possa portare a ciascun individuo. Ci sono varie componenti che fanno in realtà di una trama molto semplice, infatti in Flauto Magico viene spesso mentire proposta ai bambini, in realtà un capolavoro assoluto della cultura occidentale. La musica rende immediata anche una lingua che a noi è sconosciuta. Se Mozart fosse vivo spererei che non avesse Instagram perché non avrebbe bisogno di Instagram.